Paola Igor, una vittoria sofferta ma importantissima che vi manda all'Europeo? Moltissima, una bellissima partita, peccato per il primo set che ci siamo lasciate andare, però poi abbiamo giocato veramente bene, abbiamo tirato fuori tutta la grinta che avevamo e questa è la mia squadra, questa è quella che siamo noi e ora ci manca lavorare d'estate per l'Europeo, quello è il nostro punto principale ora. Finale di partita tiratissimo con un grande pubblico, quello di Napoli che vi ha spinto? Moltissimo, ringrazio veramente tutto il pubblico che ci ha sostenuto veramente di cuore perché è anche grazie a loro che abbiamo vinto questa partita. A fine agosto all'Europeo con quale ambizione? Chissà, sicuramente arrivare in un bel punto, però dobbiamo prima lavorare perché c'è molta roba da migliorare.